Ricomincerà con 41 comuni in zona rossa da lunedì la settimana dell'Abruzzo che resta zona arancione ma è preoccupato dall'aumento dei casi nella provincia aquilana, proprio quella al centro dell'ordinanza firmata ieri sera al termine della riunione del venerdì dell'unità di crisi della regione Abruzzo. L'indice RT dopo settimane di discesa continua è tornata ad aumentare assestandosi a 0,89, un incremento causato proprio dall'aumento dei contagi nella provincia dell'Aquila dunque da lunedì Avezzano ed altri 36 comuni della Marsica, della Valle Roveto ma anche della Piana di Navelli saranno oggetto di più stringenti restrizioni a fronte dell'uscita da zona rossa di Pratola, Peligni e Corfinio. Nelle altre province escono dalle maggiori restrizioni Lentella per il Chietino, Colle Corvino, Rocca Morice e San Valentino per il Pescarese, Santomero, Sant'Egidio alla Vibrata, Albadriatica, Canzano e Pietraltra di Valle Castellana per il Teramano dove però ci sono tre comuni che entrano in zona rossa e sono Martinsicuro, Colonnella e Nereto. Per quanto riguarda i dati odierni sono 238 i nuovi positivi con un tasso di positività che si attesta al 4% in discesa di un punto rispetto a ieri. Sono 13 invece i decessi recenti mentre aumentano le guarigioni ma anche gli attualmente positivi. Ancora in calo i ricoveri più decisamente in area medica meno 14 ma anche in terapia intensiva dove si è liberato un posto letto.